Oggi questa gioia si impreziosisce anche perché dinanzi a noi ci sono due giovani, Mario e Nelvira, che tra qualche momento pronunceranno un piccolo ma significativo sì, intraprenderanno insieme un cammino mano nella mano e dall'inizio della celebrazione che Nelvira e Mario sono mano nella mano. Questo cammino insieme sono chiamati oggi a inaugurarlo nel segno della benedizione di Dio ma anche sostenuti dai cari tutti di famiglia e dagli amici che fanno corona al loro banco musiale. Sono certo che in questi giorni parenti, amici, conoscenti avete chiareggiato a Vicenza per rendere onore a questi sposi. Anche la vostra tra virgolette venuta e le soleorie per chi viene da fuori è stato un segno grande che rivolto agli sposi significa vi vogliamo bene. Siamo qui per questo e vogliamo che sentite forte il nostro abbraccio, la nostra amicizia, la nostra carezza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.